Gli esperti di comunicazione dicono che avere un logo, un marchio, è molto importante per un'azienda perché è lo spirito dell'attività. Un logo è la base da cui partire per una comunicazione efficace e di successo. Un pensiero condiviso dall'Istituto Scolastico Superiore Davinci Nitti di Cosenza che ha deciso di rinnovare il proprio logo mettendo insieme le iniziali del nome della scuola. È importante cambiare il logo perché la nuova società della comunicazione viaggia su immagini, immagini che devono essere contestualizzate nel qui e nell'ora e quindi è importante veicolare una nuova identità dell'Istituto attraverso linee e forme che interfacciano la cultura contemporanea, la cultura del digitale.